Ciao, sono Natalia Germani e oggi voglio parlarti di alcuni luoghi comuni nel network marketing. La maggioranza delle persone pensa che avere successo con il network marketing sia dovuta a scorciatoie, truffe, strategie occulte, vantaggi sleali o addirittura fortuna. Quante volte hai sentito dire e quante volte puoi averlo pensato, aver pensato che un grande imprenditore, che una persona di successo sia diventata tale perché ha rubato o perché ha avuto fortuna, perché stava nel posto giusto, al momento giusto, oppure perché magari ha fregato qualcuno. Ecco perché questa credenza errata o quantomeno non è sempre vera purtroppo. Questo è il modo di pensare di molti, direi tanti, che non riescono a percepire lo sforzo, l'impegno e la passione reale che servono a una persona per arrivare al successo. Spesso sono indotti in questo inganno perché giudicano solo il risultato finale e non tutto il percorso che bisogna fare per arrivarci. Oggi però non ti voglio parlare di grandi imprenditori di successo, ma di piccoli imprenditori o imprenditrici che si stanno impegnando, si stanno impegnando a costruire la loro attività di network marketing o di vendita diretta e lo fanno facendo grandi cambiamenti, affrontando grandi sacrifici. Spesso, molto spesso, lavorando anche la sera, la sera fino a tardi o anche nei weekend. Parliamo quindi di centinaia di migliaia di persone che nel loro piccolo stanno facendo delle scelte fuori dal comune, stanno uscendo dalla loro zona comfort, persone che vanno diciamo controcorrente. Queste persone non si accontentano, non gli basta quello che hanno, vogliono un'alternativa professionale rispetto a ciò che gli viene presentato come una soluzione come soluzione lavoro dipendente o le attività imprenditoriali tradizionali. Sono persone che meritano rispetto perché spesso non hanno nemmeno il tempo di lavorare il doppio e scelgono quindi di impegnarsi proprio in una di queste professioni perché vedono e credono che migliorare la propria vita sia una possibilità concreta. Questa possibilità per loro si traduce quindi e si chiama network marketing o vendita diretta o multi level marketing. Chi inizia questa professione lo fa per avere un reddito extra, per coprire le spese che non riescono a pagare con lo stipendio, quindi per arrivare giustamente a fine mese. Oltre a loro c'è anche chi vede in questo modello di business un modo per raggiungere la libertà finanziaria, per raggiungere la realizzazione dei propri sogni. Ci riescono tutti? No, ovviamente, come in ogni settore, in ogni contesto o professione o lavoro. C'è sempre una piccola percentuale di persone che ha veramente voglia di lavorare e che quindi ottiene un risultato fuori dal normale. A me piace pensare che ci riesce il 100% di quelle persone che studiano, si applicano e lavorano seguendo quelle che sono le corrette modalità e le strategie. Oggi sono qui per tutti questi piccoli imprenditori o imprenditrici e soprattutto per chi si sforza, per chi si impegna con costanza per ottenere quei risultati che si merita. Se mi hai seguito fino a qui vuol dire che dentro di te c'è una persona fuori dal comune, fuori dall'abitudinario, che vuole mettersi in gioco. Tuttavia però non hai il coraggio di farlo. Se mi hai seguito fino a qui vuol dire che stai cercando qualcosa di diverso che dia un senso alla tua vita. Quindi se sei arrivata fino a qui, fino a me, vuol dire che qualcosa di me ti ha attratto. Vuoi che ne parliamo insieme? Prenota una chiamata gratuita con me e vediamo insieme se quello che cerchi corrisponde a quello che ti sto offrendo. Pronta al decollo? Allaccia le cinture e andiamo!